Fala vedere E non ce l'ha ragazzi Rilincatela Però veramente incredibile Alla prima cosa mi rompono il cazzo Ma poi è una cosa così Innocente Non è che dice ho flammato qualcuno Stavo bevendo perché stavo giocando di merda Follia Grazie Ma perché ti fissi questa roba Scusami un attimo Perché Perché si annoiano i top laner Dopo una certa Scar uguale Si annoiano e quindi cominciano a giocare action Cominciano a giocare rush Sì È proprio un goccia coreana Io non so come fate Non annoiarvi i Lady Carry Vabbè forse i champions sono più divertenti in generale Perché giocate solo 4 champions Cioè tipo i Lady Carry sono 10 Ne giocate 5 a meta massimo Beh Kaisa Karista Lusen Bugs Sega Feglios Ce n'è di sempre Io possiamo giocare a Blitz Kaisa se vuoi sul giro Vai Come vuoi va bene Paolo Cannone Adesso subito Blitz Kain così alto C'è un bit trash Eh vabbè però Capiamo Fai prendere Kaisa Fai prendere Kaisa Beh blendere Kaisa non è proprio il top Però se volete Va bene blend Kaisa Blend Kaisa Prendi Ash per me Prendi Ash Voi veramente di Ash Comunque io Ash mi do al gioco Quindi se vuoi flixare Ma ci chiamano support Top è buona perché non serve a un cazzo Cioè susa non fai un cazzo Allora facciamo Di Braio quasi contro tutti comunque Non è male Allora facciamo Vinci sempre Poi sei sotto torre Quando loro fanno il 6 E spari le frecce Sai cosa si può fare? Che tu Deido vieni support E poi lo mandiamo top Con Taric Non sono bravo top Lei è in peggiore Gioca Karma Io gioco Pyke se vuoi Ok vado a Blitzbank Dai Deido gioca bene Pricchiamo mid lane adesso Pricchi Pricchi dopo Ma Malfight mid mi piaceva contro il loro Si è perfetto E poi prendiamo anche un'altra P Anche un'altra P No no è vero No 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 Insisto Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Mamma mia Comunque sei napoletano Cioè Gredisci subito Proprio Avevo già il coltello in mano Adesso sanno che sei la jungle Abbiamo rivelato le nostre carte Potevo prendere a stop Ah E cosa ci manca? Sono tante Ma Ione può essere anche top Possiamo ancora flexarlo Ione È vero Per me ma il fight top è ancora forte Però non ho la P Allora Vai con la Trinity Io propongo un pick Eh Horn Ti diverti ed è forte Yasuo Gled Oddio nel match ha forse un po' una merda totale Come è meglio Però Yasuo è carino Sennò a Zack Bravo bravo Adesso bravo bravo Yasuo a Zack Yasuo a Zack No no va benissimo Set 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 Padrox è il migliore No no Ma che stronzo Aveva un sternuto Può capitare Mi sa che abbia scliccato Ma come uscì Dash No Assurdo Ma com'è possibile Non lo so Io metterei in crayon top E rimaniamo così Io vedo già il mobility slash Il minuto 6 Perché è andato di 0-3 Comunque Giornano è Legit strategy Giocate bot Ok Per forza Penso No Fitto Paolo Se ti cario questo game 5 sub Se ho un bloccato Me ne dai tu Anzi Takeshi's Castle Con gli streamers Anche se hai vissato Questo Takeshi's Castle Mi piace Let's play made Let's play made Ma vai in una cosa Nella natura Dove c'è una tutta attività Dove devi fare saltico No Ma non è la stessa cosa Di camminare sui rolloni Che stanno sull'acqua Ma figurati che in Italia Non c'è una cosa Che fassi i rolloni di merda Che dici tu Ma facciamolo insieme Andiamo 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 Nella tua faccia Non ci sono i rolloni Tipo Ma no Dici altri Andiamo qui ragazzi Come da lì Ma noi invadiamo botti Faccio flash exhaust Aspetta dai Vai flash exhaust L'unico OP A livello 1 È in base Sta cellando Sta arrivando Occhio Mi sono incastrato nel muro Arrivo Go 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 Sicuro Vabbè va Andiamo Andiamo Dovevo aspettare L'AE di Silas Io so Non c'è flash Ce l'ho eh No no lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Go 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 No vabbè Mi suicido Mi suicido No no non c'è bisogno No no mettiamo un coca Mettiamo un coca Vorrei invadere bot Però Mettiamo un coca Parola Pazzi Quanto non ci stoppa di cu Merda Sono male Voi vorreste dare Ciscastle con gli streamer Sono organizzati da Paolo In chat di Paolo Scrivete uno È fissato Non nella mia Cioè Nella tua Non è che non scrivo niente Comunque nella mia Non hanno scritto uno Posso avere il leash Per favore Ti prego Sono sales Ti no Ti congiuro Ti prego Mamma mia No vieni 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 Ma che è ancora il 2 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 Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Ci ho rovinati Cazzo Ma perdiamo la mia Addirittura No no Ma è pazzo Questo ragazzo In giungla Mi sto cancando eh Oh shit Porca puttana Ha rubato Porca puttana Dovevi Purla Eccolo Non morire Basta che non morire Abbiamo vinto Eccolo il giro Davvero muori Vabbè fanculo Facciamo così Facciamo prima Mi sono rotto il cazzo No no L'hai spostato Ecco qua Come osa Invadere il nostro jungle Ora sei meglio Fra quello Sì sono a livello 1 Chilling Vabbè però lui pure Lui è al 2 Lui è al 2 Grazie a me Comunque sembrano scars E' l'ansia che mette te Lucky is no Stanno restando Recolla no No flash Interrompete il regol Interrompete il regol Ci penso che è morto Fidatevi Dov'è Ma no Già l'hai interrotto A parte che ha l'acqua Vai vai Faccio interiore con l'aria Lo gravo Ma dove sta Però vieni Però no Ma chi è questo ragazzo in giungola Fai la W tu Bravo Comunque son mica Con Blitzkamp Comunque andiamo a lag Se non me lo banno Bravino In cura di questo E' proprio la parola Cannone We try We try Hai il flash Prendila Prendila Precollo Ragazzi Vengo mid Bravo Bravo E cazzo Dovevo aspettare il suo Skish Va bene Esecuzione 3 su 10 Fighta 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 T1 fighting T1 fighting Non mi sei Accantata questa Oh Fantastico T1 fighting Oh merda Ma muore Mi sa che muore Porca puttana Ah beh io ti report No fragola Dai però Hai la storia L'attenzione di un cricetto Riesce a focusare i tuoi game A 4 Sì Cioè Vai dai Poi lo contestiamo Dai Grazie Ma perché noi si annoia Talmente tanto Che c'è Non capisco come sia possibile Forse perché gioca In giungle Vabbè Ok Vabbè Top can kill Fra con la top can kill Arrivo un attimo Però non ha scherzo Un campo Un campo e ci sono Il più serio De dare a top Le con hash Dimmi tu Buono L'ho ammazzato comunque Let's go Ok Possiamo forizzare La wave O li ammazziamo Che sì Questi non lo sento Rallentilo Sì 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 Ho fatto la finta Andiamo Nice nice L'ho vista Oddio Questa è faker Però scusa Assurdo Non si è rimane Appena La wdop La twitch Alliamo Guarda con che wave Stare callando Con iqdine Dove volete La Low kai Low shot Dove Dove voi Caricola Golem Non vinciamo Golem Guarda con iqdine Non lo so Ah vabbè Sospetto Guarda guarda Arriva Arriva Occhio a che c'ingaggia Twitch Abbiamo visto Ione non c'è Viego non c'è Da nessuna parte Né sopra Né sotto Sarà in mezzo Nascostissimo Missed Missed Occhio Sono tornato Thresh Missed Ancora Ok Beh so Flash c'è Bot gankabile Ma in realtà Forse non si aveva Ancora aiuto Però con te Posso freshare Forse la giocata Non hai il flash twitch Ho una freccia Se volete Eh tira Capiamo Dove volete Aspetta 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 Mi avvicino prima Tira Tira qua vai Aspetta Dai che ma io 3 2 Mamma mia È animata benissimo Sta arrivando Guardate me No ma non li prenderò mai Vai 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 Ci sono lo stesso Fighting Fighting Ok è qua Ok no è qua Eh c'è anche Diego Poi Diego Poi Diego Poi Diego Poi Diego Piego 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 Arriva Come ho fatto a missarlo Io muoio Addio Via 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 Arrivati Arrivati Oddio Ma come ho fatto a missarlo Ragazzi Era là Capita capita Paul Cannon Ma Cioè Gli è passato Atreverse Andiamo in lex Arriveremo lex Sfigati che siete Mamma mia Porrezza una unghia E la mia skill Kill top Top die No Top no die Devi farmi la play Ash Freccia dalla base Per fai dare Quella Serve un cazzo proprio Ci sono anch'io Ah è la ulti Si può giocare Attenzione Ah che ce l'ha No no Oddio Lo so L'ho Otto bot Mi scallo Si è altato Si è altato Si è altato Ok Vado Gioco Prendiamola 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 Go 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 All I have Buono Mamma mia Che c'è in cc Porca puttana Insane Bot è live Abbiamo con Ione 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 Arrivo Aspetta che Puscia Oh piego qua E quindi non c'è il jungle Ok Perfetto Diving Diving T1 Diving Io lo scriviamo Io li avvisiamo almeno Che si può succedere Secondo me si Scrivi Scrivi Tu Aspettiamo la agro E poi li grab Dopo la agro Aspettate Perfetto Guarda Stai workando Assetoff Anche io Potrei andare Un'altra volta Anche io Basta Non tengo più Non tengo più Sembriamo forti Siamo pronti Per gli MSI Comunque Ci siamo Ci siamo A stop Sta a 20 cesto Sopra Panther Con i Knight Elettrico Ma vuoi farmare la jungle Ma questo no Ragazzi 22 million 22 Adesso sembra Locifragola Quello quando C'era Pantheon Ma vuoi farmare la jungle Porco Hai capito Che mi hai sentito Senti a dire Poi è cambiato Sì è vero Dallo ying Allo yang Com'è possibile Non ci sono Le mezze stagioni Di una volta Non ci sono Le mezze stagioni Di una volta E arrivo Mi sa che non ce l'è più Il jungle Adesso Di una volta 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 Dov'è questo Est Est Di una volta Ah lag Muoio sempre Solo dal mid Non è Est E Reportami C'è ragione Ultidiari Slash di panther Tu sai che vieni Non ce la fanno Per l'autotaccare Lui ha aspettato Ad attaccare Perché voleva Interretto Cosa hai visto Bawd Non è assolutamente L'autotaccare Ho visto Che era strano In azione L'autoattacco Come l'ho ricordato Arriva E' impossibile Bot Bot sembra Cazza Dio Merdo No Vabbè Pessimo umore Purtroppo Sì Purtroppo Sembra Sembra Purtroppo Capitano Quello è senza flash Tanco io Non vale che ho tancato io No non ti salve King Ti penso io Sì E questo E questo Posso uccidere Eh sono morto io Ho l'ex host No Vabbè 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 Potevi fare Finta No 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 Ho trollato Non mi aspettavo che grabasse subito Posto blitz Arriviamo Lecco Arriviamo Ce l'hai un'altra ulti Magari questa volta buona Spingiamola Spingiamola La usiamo top questa ultima Magari è la prima che io Speriamo Occhio Forse è più facile se vengono da lei Non lo so No 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 Io non muoio Io ci sono Io non muoio Ulto eh No no Raffanculo Le ulti di hash top Le ulti di hash top hanno il buff che vengono anche hit up Eh vabbè ragazzi Hittare una ulti cross map Con la pericolare La situazione Non è easy eh Occhio mid Posso giocare Bottling Qui dai viamo io Ok Io regolo Ho detto Perpendicolare Mi ha fatto un applauso Sono veramente Dove Viego bot Non giochiamo Oh dai viamo qua Arriva Arriva Arrivo Io vedo Lo scatola Ho fatto Ho guardato Forse arriva anche Viego Non lo so No Viego è una botte Arriva Ari forse No Facco maffo Ari può essere Viego qui Non c'è niente Non c'è niente No flash No ulti Bel flash T1 fighting Ehm Ok Go go Mamma mia guarda lì Hash top Ah ma io comunque Da chi Da Twitch Da il Twitch Ma io non muoio Non ha ult Dove una freccia? No No Te la tiro mid Te la tiro mid Che prendo Ari Va bene Ok Viego dovrebbe essere qui Ti guardo Eh la wave botte Drago la sua No Viego qui Però c'è Viego lì Viego qui Ti do ulti mid eh Qua Arriva Aspetta Aspetta Guarda 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 Niente Niente buff Close Vedi però ti ho salvato La Viego eh Non credo Viego non ulti Minchia quest'anno Peccato Occhiare Occhiare No niente Vaffanculo Non ho visto che è partito Assurdo I think of fighting top fighting top da macchina. No, ma lo facciamo. Sì, c'era che il su quanto Detto che c'è la kill sì sì minchia Ora sì mi sa Vado a morire penso 0 di infatti è morto Con calma occhio che puoi perdere o l'exosto non ho niente 3 Posso giocare un bot venite un'altra. Sì, vogliamo proprio qua però un po più dietro come serve che l'hai Io l'ho tirata guarda mara mara arriva Anche a me Questo non vorrei la clip Bello molto bello anche la prima la sua barata Eh Disastro Voglio un po' mi sa. Io e il locket Andate voi mid? Ma hai mai visto un hash bullizzare così un pantheon? Sì sì andate voi mid e gioco per l'herald Comunque non è male hash top Qua senti invece di che l'hisa di carry fa cagare Oddio Lo spot un po' debole. Mamma mia è orribile. Ma ce la fa, non credo che ce la faccia Dai leido, spaga Moments, ha contenta di king Ma no pusha pusha Vabbè vai Bravo sei il chat Sei pronto? Io ci sono eh Ok c'è anche il viego Ti fa che si salva No Ti guardo Sash E muore mi sa Sì 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 muore 22 Ok No flash twitch E basta Ma ragazzi Questo è l'exhost Questo è l'exhost blitzcrank posso dirlo? Ma questo sei tu Ma questo sei tu che sei underfed una merda La prendo Presa 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 Porta Posso giocare? Sì Crediamo nel cuore le carte Siamo più deboli ma non davvero Arrivo con il flank, ma non sono all'ulti 30 secondi all'ulti Io è qui E lanterna? Non ci posso, Dio merda Scusatemi Ah, ma è un gesto Questo dimostra quanto le brutte influenze influenzano Infatti, infatti è molto alladeito Allora, il cannone non delude mai Fate un'altra clip su Twitter, dai Ma poi manco fossi un prete, cazzo Quello era proprio, sì, brutto, cattivo Sì, sentito, sì, sì Se fossi cattolico sarei molto arrabbiato Eh, scusate Ci chiamo a bere il coso, dai Arrivano a te Ma muore quello là C'è Viego, dammi una mano Arrivo, arrivo Non parlare in pugliese che mi fa schifo Ma non è pugliese Io non ho male, dove c'è Ahia Oh, il blu, blu, blu E posso giocare, se vuoi Ti vedete 3v4, eh? Anzi, 3v5 Non è un bel grab No Io me ne andrei tagliare Vabbè, tipo a sto punto Porca puttana, ragazzi No, no, stiamo trollando, ragazzi Stiamo trollando Cazzo, morto Ma Paolo Cannone Anche nel clone, wow Oh, merda, merda Ma possiamo perdere questo game? Non ci vedo No, no Tutti dei fulgussi Minch, mi sono visto un attimo per una bestemme Eh, vuoi giocare? Minch, ma è stato inguardabile come giocatore Questo è Ione, vedi, mi sta tutto L'ho ucciso comunque Bravo, forse io lo ne chiamo No, io lo ne chiamo Mamma mia, un'accudività, Sadat Mamma mia, si fa male Poverito No, ma Sadat, sto giocando bene Non so perché lo prendiamo in giro Sì, con lui, ma c'è un scopo c'hier Sì, per capire l'attenzione, davvero Bravo Tipo bot Usciamo per la bot tower Dai, dai, ma giochiamo Dai, frago Ti uno fighting, bot Ma lui dici, sono ti uno fighting Ma che vuol dire poi? Come che? È la tipica frase che dicono ti uno Prima di un game O durante il game Quando vincono una play Eh sì, dicono ti uno fighting, ti uno fighting Che cosa carina Sono unici Un motto per noi Ma noi abbiamo Però non abbiamo il nome di una squadra Dux fighting, guarda Twitch Dux sicuramente no A me Dux fighting non ti spiega Ce l'ho, ce l'ho Muore, 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 lo prendiamo No, lo prendiamo Oh mio Dio Posso andare per... Aiuto, aiuto, aiuto E tre di cinque di nuovo Ma perché stiamo giocando con Celli Call of Legends? Ma perché la dichiaria in base? No, perché abbiamo arrivato dopo altri due? No, ragazzi, vabbè, è l'ultima parogine Ma ti stai giocando, Paolo? No, no, però stiamo trollando, dai Ma non so Perché sono bidoni con i top Tirano fighting Però è vero, gli avversari sono dei bidoni Questo è vero Questa sembra... Boh Kyrenis Nooo Se si gratuita, no No, Kyrenis mi stompava con Ashtop Prendeva Kled e mi stompava Già successo Va bene Giocava bene, ragazzi O Dux fighting è il nome del team Oh, ultimid, Paolo, ultimid Sì, ti vedo, eh, ti vedo Ti guardo, ti guardo Non metterà ansia Io beh, hit No, mi seguono in testo Perché questi non stanno mai mid Thresh potrebbe morire Oh, no, ho preso Ash Ma hai preso Ash Hai preso Ash Aria ha preso, vabbè Ha preso le stesse Allora, ho preso la card mid Occhio, occhio, occhio Che ci investono questi Vai, vai, fai diamo, fai diamo Sono in Francia Io devo gruppare, eh Io devo boccare Vai, vai, vai Quando vuoi, quando vuoi Quando vuoi, quando vuoi Occhio Ma Aghi Vado, eh Vado, eh T1 fighting T1 fighting Go guys Go guys Go guys Guarda, lega Chi è il focus? Chi è il focus? Guarda, lega, lega, lega E dovrebbe ultare Aghi, se è possibile Ho l'ex host T1 fighting Fighting Vai, ragazzi Oh, minchia, funziona T1 fighting No, veramente Ma poi avevamo Pantheon in team Com'è possibile? Ero io Pantheon Sono versatile Wow No GG 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 Bravi, bravi boys Adesso le chat Verranno le pagelle Dei player Verrebbe fare Romanzi di oggi Io Non ho fragola Io non ho Io Deidoro di impegno Io sediaz Grazie Oh, ma Cos'è questo bug? C'è un bug No, va, è incredibile Ma è la stessa È la stessa Scusati, Debao Scrivo a 0,16 Perma fight a top Ah, i miei danni sono Molto più alti dei vostri Ragazzi Avete intanto Ma poi non è il bug È fragola, è il bug E' messa E' messa E' questo il joke Boys, mi sono direttito anche oggi Anche io Siamo simpatici E anche for C'è un bel mood Vediamo quando perderemo Però, eh Organizziamo le scrim Contro i più forti Che conoscete, vai Sì, vanno organizzate Le scrim, se volete Tim Attidus Di nuovo Che palle Ma anche con squadre italiane Se vogliono giocare, I guess Bella live oggi Peccato per la bestemmia È vero, è vero È proprio dovuto rovinare tutto Paolo Cannon Ma era proprio Io l'ho detto Quando si tratta di deludere Paolo Cannon Io ti seguo Da dieci anni Paolo Ma questa è una volta Che deciderò di follow Art Dai, per favore Rifollow Mi sono proprio offeso Ci sono rimasto male Dai ragazzi Buonasera Ci aggiorniamo su Whatsapp Ci aggiorniamo Bye bye Ciao ragazzi Buona segnata Bye bye Ciao, grazie Ragazzuoli Grazie a tutti per la compagnia Spero che siete Stati bene assieme a me E vi mando un bacio grande Ciao Ciao